Ciao sono Paolo Bacci e vi presento questo manzardato Mageo 192, un camper comodissimo per quattro persone, due bei matrimoniali davanti e dietro. Cliccate sulla vostra destra e in alto che si aprirà la scheda del nostro sito dove ci sono tutte le caratteristiche di questo camper, chilometri optional e quant'altro. Cosa non proprio bella però un po' complessa a ripristinare, sono questo scolorimento degli adesivi, però strutturalmente, sia strutturalmente che come è tenuto, è un bello oggetto. Come vedete il garage che è la parte diciamo più delicata e in ottime condizioni, qui sotto le dimensioni. Andiamo al suo interno, una bella porta d'accesso, sale facilmente, un enorme letto matrimoniale con l'oblò estrattore d'aria, quindi miglioramento per coloro che hanno un po' caldo c'è un bello scambio d'aria. Il ventilatore non serve a spingere l'aria ma a prendere l'aria dal suo interno e portarla fuori. Qual è la zona giorno? Allora, intanto qui si può tirar su e qui è il tavolo, quindi una conversazione uno, due, tre, quattro, cinque e sei, oppure si mangia in quattro contenitori. Dalla parte sinistra questo e questo, dalla parte destra, questi due grandi qua. Blocco cucina, un bel lavandino, un lavabo, tre bel lavandino, tre fuochi e un piano d'appoggio. Poi cassettiera e altro contenitore e qua un altro contenitore. i due pensili e l'enorme contenitore sopra il frigorifero e il suo congelatore. Quando il letto è per traverso, come in questo caso, c'è un bel armadio. Poi il passaggio, qui c'è l'accesso al garage, qui a volte ci sono le bottiglie, oppure a volte anche in montagna uno monta da lì, si leva gli scarponi e poi entra nel camper. Questo letto è un bel letto comodo, da matrimoniale, con oblò, finestra e poi i tre pensili. Il bagno. Il bagno, questa è la zona doccia col suo oblò, quindi comoda. Qua il water, come vedete, comodo, e con la finestra. Sotto, il contenitore, come contenitore sopra di qui e contenitore di là. Il lavandino, eccovi qua. Quindi un ottimo camper da famiglia. Aspetta, ma questo si può abbassare? Sì. Quindi un ottimo camper da famiglia, un matrimoniale davanti, un matrimoniale posteriore e la possibilità di avere anche un matrimoniale nella zona giorno perché il tavolo si abbassa. Chiamateci, venite a vederlo perché questo è un bel camper e così possiamo darvi la nostra consulenza per potervi far acquistare il camper più adatto alle vostre esigenze di vacanza. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambaci. Ciao.